Ciao ragazzi, oggi in questo video faremo la presentazione con la descrizione delle caratteristiche tecniche e con le prove a fuoco dell'Arsenal Firehounds Strike One. Iniziamo! Come abbiamo detto poco fa, la protagonista di questo video sarà l'Arsenal Firehounds Strike One nel modello Speed. Iniziamo a vederne tutte le caratteristiche. Come potete vedere è un'arma, si tratta di un'arma semi-automatica con un sistema a corto rinculo che spiegheremo dopo e senza canna esterno, quindi parliamo di una Striker con percussore lanciato. In sostanza il percussore, come avevamo già spiegato molto bene in un video dedicato alle differenze che ci sono tra i vari sistemi d'arma, video che trovate qui sul canale YouTube, dicevamo che il percussore viene completamente caricato nella fase di arretramento del carrello per poi essere solamente svincolato tramite l'azione del grilletto, quindi non serve un cane a percuotarlo. Giusto per farvi capire, qui andiamo a caricare il percussore e premendo il grilletto andiamo a sganciarlo. Carico, sgancio. Nel momento in cui vado a trazionare il grilletto, questo è il meccanismo che va a sganciare, a svincolare il percussore. Continuiamo con la nostra recensione. Come per moltissime Striker, anche qui il fusto dell'arma è in tecnopolimero, arricchito di poliestere e fibra di vetro. Il gruppo carrello otturatore è invece in acciaio, ma dopo lo vedremo meglio nel dettaglio. Partiamo, come al solito, dall'impugnatura e iniziamo a descrivere le varie caratteristiche. Sul fusto in polimero sono presenti delle lavorazioni, cioè una texture in rilievo fatto per aumentare il grip. Lo sgancio caricatore non è il punto forte di quest'arma, sia a livello estetico che funzionale, diciamo che non mi fa impazzire. Allora, l'azione di sgancio non è così netta e la corsa che deve fare il tasto per svincolare il caricatore è piuttosto lunga. Questa è l'unica cosa che mi sento di segnalare. C'è da dire però che è tutto risolvibile. La casa sta cercando una soluzione per risolvere questa piccola pecca, diciamo così. Tornando invece all'analisi del fusto dell'arma, notiamo che sono assenti eventuali comandi, leveraggi di comando delle sicure. Infatti l'arma è dotata di due tipi di sicure. La sicura al grilletto, che in questo caso su questo specifico grilletto è inibita, essendo un tipo di grilletto diverso che vedremo dopo. E la sicura automatica sul percussore. Sul fusto troviamo infatti solamente il comando di blocco apertura. Ed il tasto di smontaggio dell'arma, che è protetto da un piccolo bordo in rilievo. Proseguendo, sempre sul fusto, arriviamo infine al dust cover nella parte anteriore, dove è previsto un rail per il montaggio di eventuali accessori. Piccolo punto sullo scatto, perché quello che vedete qui non è lo scatto che troverete di serie. Questa è una modifica che è stata fatta sulla mia versione. È uno scatto extreme, quindi è uno scatto che comunque è in singola azione, ma ha un'azione di sgancio un po' più netta. Un libraggio leggermente inferiore, è regolabile in precorso all'elettroscatto, eccetera eccetera. Comunque le caratteristiche di questo scatto le vedremo poi nelle prove di pesata, eccetera eccetera. Prima di arrivare al carrello è doveroso farvi notare una differenza rispetto a marchi molto più conosciuti, come per esempio la Glock, che è la pistola più conosciuta in assoluto. Diciamo, la somiglianza è parecchia, ma c'è una differenza sostanziale. E la differenza la troviamo all'interno, diciamo, del fusto. Per quanto riguarda Glock, le guide dove scorre il carrello sono in acciaio e sono annegate all'interno del porimero. Mentre qui abbiamo proprio uno chassis chiamato underbarrel, che è proprio il telaietto dell'arma ed è inserito all'interno dell'arma e tenuto bloccato da due perni. Quindi abbiamo una struttura portante molto più stabile. Arriviamo quindi al carrello, che è il vero cuore pulsante dell'arma, perché qui è racchiusa tutta la tecnologia dell'arma, cioè tutto quello che serve per farlo funzionare. Partendo dal sistema di percussore lanciato che abbiamo già citato prima e arrivando fino al sistema AF Speed Lock, ovvero il sistema cosiddetto A blocchetto cadente. E voi direte, e che cacchio vuol dire blocchetto cadente? E che cacchio nessuno, non sono mica ingegnere? No scherzo, adesso ve lo spiego, ve lo faccio vedere un po' meglio. Per spiegarlo in maniera semplice, questo qui è il blocchetto cadente. È incernierato al fusto tramite il perno di smontaggio che abbiamo visto prima e al momento dello sparo, nel momento in cui il carrello inizierà ad arretrare, tramite questa bascula il blocchetto verrà ad abbassarsi e permetterà quindi lo scorrimento della canna lungo il carrello per poi ritornare in sede e ritornare in posizione, in chiusura, bloccato. Al momento dello sparo, arretrando, andrà di nuovo a svincolare la canna. Ecco che il movimento della canna in questa fase qua è solamente un movimento lineare in avanti e indietro, quindi avrà uno svincolo molto netto e riuscirà a contenere molto l'effetto di rilevamento che normalmente produce l'azione di sparo. Toh! La molla di recupero prevista di sare è una molla a spire piatte da 16 libre, piuttosto dura. Una delle prove che vorrei fare è quella di provare appunto a usare una molla più leggera, ma non è detto che funzioni meglio l'arma. Quest'arma, questo sistema d'arma, ha bisogno di piuttosto di una forza consistente in chiusura, quindi non è detto che funzioni. Magari queste prove qua ve le documenteremo sugli altri vari social Instagram e Facebook. Proseguiamo. La canna di questa arma è una canna tradizionale da 127 mm, ovvero da 5 pollici, e contribuisce alla vera forza dell'arma, cioè il sistema canna di questa arma qua è il vero punto di forza, ma dopo lo vedremo meglio. Arriviamo infine ai congegni di mira, che nella versione speed sono già previsti nella configurazione sportiva, ovvero con tacca di mira regolabile in altezza e derivazione e mirino con inserto in fibra ottica. Allora, in questa fase dovremo fare le famose pesate di scatto, che non possiamo fare perché mi sono dimenticato il pesa scatti a casa. Quindi facciamo una bella cosa, parliamo un attimo della sensazione che ho io nella fase di gestione delle fasi di scatto, come al solito, per poi riproporvi le prove di pesata alla fine del video, che farò, ma ovviamente in altra location a casa mia. Sullo scatto non c'è molto da dire, abbiamo detto essere uno scatto in singolazione, in questo caso è montato uno scatto extreme, quindi è uno scatto un po' più rifinito, con una minor percorsa, nulla in questo caso, con un collasso di retroscatto già regolato, uno sgancio netto e un libraggio inferiore, che vedremo alla fine. In sostanza, nel momento del riaggancio, insomma arriviamo alla fase al muro di scatto, è già sul muro di scatto l'arma e andiamo a scattare. Vedete che il collasso è praticamente nullo, il riaggancio è velocissimo e molto netto, per poi di nuovo arrivare subito sul muro di scatto e quindi al momento di sgancio. Non abbiamo altre fasi. Ok, prima prova, quindi come al solito, lento mirato, 10 colpi. Siamo a 10 metri, circa. Spara un po' alta, devo rimanere sulla... Forse ho sparato anche più di 10? Allora, perché stavo pensando al mirino, perché qua abbiamo un attimo, abbiamo il problemino dell'altra volta, la pistola è leggermente starata, quindi mirando qui i colpi andavano qua, quindi dovevo stare qui così per farli andare qua. Adesso qui non è un problema, però sui due bersagli a 23 metri vorrà dire che dovrò mirare circa qua per ottenere il risultato qua, quindi c'è questa comodente in più di distrazione. Vabbè, comunque l'analisi la facciamo dopo. Ora proviamo a fare il cadenzato sempre a 10 metri. Ok, quindi di nuovo 10 metri, facciamo due serie di cadenzato veloce da 6 colpi ciascuna per vedere un po' come si comporta l'arma. Andiamo col primo. Ok, proviamo col secondo. Ok. È stato un problemino di caricamento, ma credo che sia dovuto al fatto che ho toccato col pollice nel tenere l'arma, toccavo col pollice il carrello, quindi ho frenato il carrello. Questo già di per sé è un motivo per cui scendere di ribraggio con la molla di recupero sarà molto difficile. Comunque, proseguiamo. Allora, adesso andiamo a 23-25 metri, 23 metri in realtà, a fare la stessa cosa, quindi lento mirato e cadenzato veloce. Adesso qua dove cacchio devo mirare la base. è che non so dove cacchio devo mirare, sto andando a caso. No, è che non capisci mica dove... mi mettevo bene o male sulla riga bassa qua dell'alfa, ma a 25 metri non è che la vedi, quindi ipotizzavo, facendo il centro, di essere circa qua. Però dopo un colpo lo vedevo andare alto, un colpo lo vedevo basso. Vabbè dai, dopo il limite lo spieghiamo così, eh. Due string in cadenzato veloce da sei colpi. Ok, confermo che il problema è dovuto al fatto che freno il carrello con il dito. Proviamo a tenerlo un po' più giù. Sì, ho sparato meglio sul giro, a che roba? Ma va a sapere, che cazzo? No, è che qua non pensavo, lì pensavo troppo forse. È pensare che mi incula. È quando penso che mi inculo, vedi? Non mi viene bene pensare, devo lasciare stare. Quindi questo era lento, mirato, dieci colpi, dieci metri. Qui abbiamo due cadenzato veloce per sei colpi a dieci metri. Qui invece abbiamo dieci colpi, lento, mirato, che è stato un disastro, ma adesso lo spieghiamo. Qui eravamo a 23-25, 23-25 metri. E poi finiamo con il 2 cadenzato veloce per sei colpi, 23-25 metri. Ok, vado? Allora, analisi in velocità come al solito per capire dove sono gli errori del tiratore, dove sono gli errori dell'arma, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, partiamo con il lento mirato. Ci sono un paio di errori miei di strappo. Poi per il resto la pistola, devo dire, essere molto molto precisa. A dieci metri abbiamo individuato un errore sugli organi di mira, cioè la pistola è leggermente starata, spara piuttosto alta, perché io sparavo alla base, come riferimento, avevo questo punto, e i colpi si presentavano a questa altezza. Quindi questa variazione è data dal fatto che abbiamo un piccolo errore nella fase di taratura dell'arma, che non è sistemabile, nel senso che con questo tipo di mire abbiamo necessità di andare a sostituire il mirino o comunque abbassare un attimino la foglia della tacca di mira, quindi è un lavoro che non possiamo fare oggi qua. Per cui dobbiamo tenerla così. Sulla base di questo, nel cadenzato veloce, ho cercato di mirare una zona un po' più bassa, quindi il mio punto di riferimento era circa questo, e la concentrazione dei colpi è stata molto buona. Sia qua che nell'altro cadenzato veloce abbiamo riscontrato il problema in alimentazione, cioè nel tenere l'arma molto stretta, io che sono abituato ad andare abbastanza alto col pollice, frenavo un po' il carrello e quindi rallentavo la corsa e il ciclo funzionale dell'arma che andava a procurare dei malfunzionamenti. Ma questo non è un problema dell'arma, è questione di dover tararsi, di dover abituarsi a gestire l'impugnatura in maniera un attimino diversa. Arriviamo poi al vero disastro. Questo qui è il risultato, sono 10 colpi mirato a 23-25 metri sicuri, garantiti. Il risultato è molto brutto, ma non è un problema dell'arma, cioè qui c'è un problema di mire, cioè un problema mio di mira, ovvero non sapendo dove mirare, dovendo compensare questo errore che abbiamo su una distanza molto più ampia, ho dovuto cercare un punto di mira indicativamente in questa zona, capite che a 25 metri dove non riuscivo a vedere nemmeno il tratteggio diventava difficile, quindi avevo riferimento circa dei due angolini, però era molto imprecisa come punto di mira, era molto impreciso trovare un punto definito, per cui la rosata si è aperta. Ma come ha detto il Cruc, sono tutti lì, che cacchio te ne frega, allora avanti. Arriviamo in fondo al cadenzato veloce, dove sono rimasto molto sorpreso dal comportamento dell'arma, cioè la molla da 16 abbiamo detto che è necessaria perché già così andiamo a creare dei problemi in malfunzionamento se non impugniamo bene, ma dirò di più, non credo sia da cambiare, cioè con la molla da 16, munizione a fattore, quindi parliamo di una munizione che sviluppa almeno 132-133 punti di power factor. Abbiamo un rilevamento molto contenuto, l'arma torna molto precisa, questi qua adesso faccio fatica a ricordare se erano lo stesso giro o due giri diversi. Probabilmente erano due giri diversi e credo sia stati due errori miei nella fase coincitata di sparo, però per il resto, nonostante anche qui ci fosse il problema di dover individuare un punto abbastanza sommario, il rilevamento dell'arma era molto molto preciso, cioè ogni colpo trovavo l'arma rà. Poi con uno scatto molto buono come questo qua, dove potete vedere che la componente di strappo è praticamente annullata quasi sempre, anche qui siamo riusciti a contenere bene, molto bene la rosata, se non per due piccoli errori miei. Quindi, prendiamo l'arma e facciamo le conclusioni. Allora, arriviamo alle conclusioni, ma prima vorrei rispiegare un attimo i due malfunzionamenti che ci sono stati, perché non voglio che passi la colpa all'arma quando la colpa realmente era la mia. In questa fase io impugnavo, abituato a impugnare così, impugnavo molto forte in questa posizione. Questo rallentava il ciclo del carrello, per cui il ciclo funzionale non era più garantito. L'arma e il carrello si fermava un attimo prima in questa posizione e non riusciva a espellere il bossolo e a ricamerare il seguente e quindi non aveva la possibilità di fare tutta la corsa. Questo è il motivo che ha generato i due errori, insomma, i due malfunzionamenti. Detto questo, facciamo un bilancio. Allora, l'arma inizialmente non mi piaceva così tanto. La vedevo un po' troppo strana, mi sembrava un po' una copia di altre armi. Invece, devo dire, che è sviluppata molto bene. Non mi piace il sistema di sgancio caricatore, ne abbiamo già parlato. Questo problema sulle mire va un attimino risolto e rivisto, ma è una cosa assolutamente fattibile. Per il resto, devo dire che le impressioni che avevo prima di sparare, io in realtà l'avevo già utilizzata quest'arma, le impressioni che avevo prima di sparare sono sparite sparando, anzi sono cambiate sparando, perché il riallineamento, seppur la molla sia dura, è veramente molto molto preciso. Dato da, molto probabilmente, dalla forza di quest'arma, quindi dicevamo prima che si parlava dell'asse canna, per asse canna intendo due cose. Il fatto è di avere una mira molto istintiva, perché abbiamo le linee di mira molto basse, quindi sono quasi praticamente sulla nostra mano, quindi abbiamo un'inclinazione e un'altezza delle mire che ci rendono la fase di puntamento molto istintiva. Questo è un pro innegabile, molto importante. L'altra cosa è il sistema che abbiamo visto prima alla F-Speed Lock, quindi il sistema con blocchetto cadente, che permette di contenere al massimo il movimento di rilevamento dell'arma, cioè l'asse canna, avete visto la canna, scusate, si muove su un'asse solo in avanti e indietro, quindi non ha quell'effetto bascula che c'è normalmente sugli altri sistemi, e questo probabilmente incide anche qui nel controllo del rilevamento e quindi genera veramente un ottimo controllo nella fase a fuoco, nella fase a fuoco coincitata. Poi, tolti gli errori miei, abbiamo visto che con questo tipo di scatto praticamente abbiamo una Striker in singola azione, quindi non si può dire altro che un sistema che va benissimo, insomma, molto valido ed efficace. Abbiamo uno scatto adesso, in questa occasione qua, è un Extreme, quindi è già modificato, ma paragonabile a quelle veramente delle Single Action, cosa che non si trova sulle altre Striker in commercio. Quindi, ragazzi, ora vi lasciamo le prove di pesata dello scatto che vi abbiamo già spiegato, insomma, dobbiamo farle in un'altra location. Vi ringraziamo per l'attenzione, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video e seguiteci sui vari social, noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao! Adesso segno tutti i colpi, adesso mi rimetto a 23-25 metri e voglio rifare l'interno mirato, un po' che non è possibile, ho fatto una merda di genere. Ci vede, ci vede, ci vede. Ci vede. Oh! Allora, due strappati sicuramente. Eccoli qua. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Praticamente tolto questo strappo, molto meglio, dai. Vabbè. E facciamo un paio di prove anche sul cadenzato veloce. Quindi, un'altra notazione. Grazie.